Buongiorno a tutti, allora, magliettina come sempre del gigione della settimana con la frase mega lunga, frase insomma, non so se definirla una poesia, un racconto, un pensiero, perché è lunga, è molto lunga, io ho fatto dei piccoli cambiamenti dall'originale, poca roba, però siccome mi piaceva ed è nel mio spirito, diciamo, la penso perfettamente così, allora l'ho voluta mettere sulla maglietta, allora, news news news, perché signori miei ci sono degli eventi che iniziano in questi giorni, uno è iniziato ieri e uno inizierà oggi, e poi si parla di un posticino carino qua sul lago dove andare a mangiare a breve, ma anche adesso è volendo, però tendenzialmente in questi posti si va verso fine settembre, primi di ottobre, infatti io non riuscivo mai ad andarci, proprio perché i miei amici organizzavano in quel periodo lì e io in quel periodo ero strapieno di lavoro e quindi non potevo più spostarmi sul lago fino all'estate successiva, anche perché poi tendenzialmente io a dicembre, a Natale, così portavo su mia mamma e poi la lasciavo lì tranquilla per i fatti suoi, così stavamo dieci giorni a distanza perché ci vuole anche per ossigenarci vicendevolmente, anche perché qua sul lago dove vengo da anni, ormai vivo da dieci anni, ma tutte le stati salivo, metà degli anni settanta in poi, non c'era nulla, non potevo usare nulla, avevo un televisore in bianco e nero che prendeva poco o niente, i miei amici tendenzialmente d'inverno li potevo vedere alla sera e basta, l'unica cosa che si riusciva ad organizzare era la cena di capodanno, per il resto io mi rompevo i testi tutto il giorno perché non avevo nulla da fare, non potevo fare nulla, uscire in giro facevo freddo che metà bastava quindi non c'era voglia neanche di uscire al pomeriggio e quindi sarei dovuto rimanere in casa tutto il giorno a rompermi i testi e quindi preferivo stare a Milano, tra l'altro ai tempi avevo ancora il negozio quindi dovevo lavorare in negozio. Scusate l'inizio, l'incipit come si suol dire, ma andiamo a questi eventi perché uno è da libidine, perché dal 31 agosto al 10 settembre si svolgerà la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2022 con un programma davvero libidine. Questa edizione segna anche il ritorno alla normalità, con sale a capienza completa, via libera alle feste e soprattutto senza muro che divide fan e star in zona red carpet. E' ovvio che i veri protagonisti del Festival sono i film, ma a dare il vero tocco di glamour ci pensano le star che saranno ospiti appunto a Venezia. Ma vediamo chi sarà presente al Festival del Cinema che ha iniziato giusto ieri, ieri. Come sempre saranno tantissimi gli autori e interpreti provenienti da tutto il mondo ad arrivare a bordo delle barche taxi, ma a far gola ai fan in cerca di selfie ed autografi sono sicuramente i talent hollywoodiani. Di certo ogni giorno sfilerà sul red carpet la madrina della Kermes, Lucio Muñoz Morales, l'attrice e modella spagnola che come da tradizione aprirà il Festival con il battesimo nelle acque del Lido e chiuderà la manifestazione durante la ceremonia di premiazione. Allora cominciamo a vedere chi sarà presente. Una è Ana de Armas che io ho conosciuto non solo per un film un pochettino osè diciamo, ma perché ha fatto in Spagna qualcosa di simile, un film sulla dominazione romana in Spagna in cui lei faceva Nerea e poverina questo soldato romano gliene fa di tutti i colori fino alla... ma non dico altro perché magari prima o poi lo faranno anche in Italia. Hanno fatto tutti 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 i film possibili immaginabili o le fiction o le storie eccetera. In Spagna non è mai arrivato in Italia. C'è su YouTube alcuni spezzoni in spagnolo però, quindi si capisce ma non troppo. Comunque Ana de Armas sarà presente al Festival di Venezia 2022 per presentare il biopic Blonde in cui interpreta Marilyn Monroe, minchia. Lei è di sicuro una delle dive più attese che farà sognare con il suo red carpet. L'attrice cubana, recentemente vista in The Grey Man, è stata diretta da Andre Dominic per interpretare al meglio una delle massime icone del cinema hollywoodiano. Il film di apertura White House White House, scritto e diretto da Noah Baumbach, che ritorna al festival dopo Storia di un matrimonio del 2019, porterà al lì dei protagonisti Adam Driver, Greta Gerwig, Don Ciddle, Raffaei Cassidi, Sam Nivola, May Nivola e Judy Turner-Smith. A solo un anno dalla sua ultima presenza, anche Timothy Chalamet, spero di averlo pronunciato giusto, Chalamet, tornerà in Laguna per presentare il nuovo film di Luca Guadagnino, Bones and Hole, una storia d'amore dalle tintenere, vietate ai minori di 14, come riporta al sito del festival. Interpretata da Taylor Russell, Mark Rylance, Andre Holland, Claude Sevigny, Jessica Harper e spero di averle pronunciati giusti. Al Lido dovrebbe arrivare anche una coppia di attori di grande libidine. Si tratta di Anthony Hobson, Tanta Roba, il mitico Dottor Letter, e Hug Jackman, Wolverine. Insieme per The Song, di Florian Zeller, uno dei titoli più attesi in concorso. Dopo il successo di The Father, Zeller dirige di nuovo Oxens, a cui ha fatto vincere anche un premio Oscar, per una storia che mette in scena complicati rapporti tra padre e figli. Tra le altre star olivudiane figura anche Colin Farrell, il grande libidine, che presenterà gli spiriti dell'isola. Curiosità, l'attore ama girovagare senza entourage e scorta in giro per i luoghi del festival, facendo felici fan e curiosi che lo incontrano. Quindi il buon Colin, se volete, se siete a Venezia, eccetera. Potete, scusimi, un autografino, un selfie. Naturalmente, un minimo di inglese. Come dico sempre io, Yes Marangi, no? Tra i giovani talenti internazionali attesi al festival c'è Saudi Sinc, la Maxine di Stranger Things. L'attrice dai capelli rossi e protagonista insieme a Brendan Fraser del film The Wall, ultima fatica di Darren Aronofsky. Sicuramente a mettere in trepidazione i fan le far tremare il Red Carpet di Venezia 2022 ci penserà Harry Styles. Il cantante e interprete arriverà a Lido per presentare Don't Worry, Darling. Il film, inserito nella sezione fuori concorso, è uno dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica e porterà a Venezia con probabilità tutto il cast composto da Florence Fugge, Chris Pine, Olivia Wilde e Gemma Chen. Dopo aver partecipato rispettivamente ai film Aquai Place e Shazam, Noah Jupe e Jack Dylan Grazer saranno presenti a Lido per il film musicale Dreaming Wilde insieme ad un cast nutrito che comprende Casey Affleck, Zooey Deschanel, Chris Messina e Walton Goggins. Spero di averli sempre pronunciati giusti al massimo, mi dite Gigi, Somaro. Tra le star di casa c'è sicuramente Penelope Cruz, grande libidine, che ritorna a Lido con due film, L'immensità di Emanuele Crialesi e On the Fringe di Juan Diego Botto. Come già accaduto in passato, la Cruz con probabilità sarà affiancata sul tappeto rosso da suo marito, l'attore Javier Bardem, che coglierebbe l'occasione per presentare il cortometraggio Look at Me, diretto da Sally Potter, in cui è protagonista insieme allo schiaffeggiato Chris Rock. Vi ricordate dell'episodio dell'ultima edizione dei premi Oscar, quello che ha preso gli schiaffazzi da Will Smith? Anche Cate Blanchet ritornerà a Lido per presentare Tar in Tar, in cui interpreta la prima donna direttrice d'orchestra in Germania. Un altro piacevole ritorno è quello di Tilda Swinton, presente al festival per presentare The Eternal Daughter di Joan Hoag. Ma vediamo chi sono le star italiane persone presente al cinema di Venezia. E qua, signori miei, quando lo sa il mio amico, prende e va a Venezia direttamente, perché lui è innamorato perso di lei. A me piace, però non in questa maniera così esagerata. Lui proprio è perso. Elodie, ti mangio il cuore il cinema plurato La cantante Elodie farà il suo esordio d'attrice al Festival del Cinema di Venezia 2022. Scelto da Pippo Mezzapesa per il film Ti mangio il cuore, tratto dall'omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e inserito nella sezione fuori concorso di Orizzonti, Elodie è la protagonista di un gangster movie e una grande tragica storia d'amore. Anche Margherita Mazzucco, interprete dell'affission di successo L'amica geniale, sfilerà sul tappeto rosso perché è protagonista di Chiara, di Susanna Nicchiarelli. Luigi Locascio e Deglio Germano, due grandi attori italiani, presenzieranno per il nuovo film di Gianni Amiglio, Il signore delle formiche, che ho visto i trailer, l'ho visto in giro qualche trailer in questi giorni. Alessandro Borghi invece è il protagonista di The Hanging Sun, sole di mezzanotte, thriller diretto da Francesco Carrozzini e tratto da un romanzo di John Nesb. Il film è inserito nella sezione fuori concorso e chiuderà il Venezia 2022. Sarà di casa Giulia Moore che siederà la giuria di Venezia 2022 insieme al regista e sceneggiatore Leonardo Di Costanzo, alla regista e sceneggiatrice Audrey Dewan, all'attrice Leila Atami, al premio Nobel Kazu Ishiguro e al regista, sceneggiatore e produttore Rodrigo Sorogoyen. Bene ragazzoli, se siete a Venezia e volete andare adesso a Venezia che c'è il festival sarà un po' un macello, trovare posto, botte da paura sui prezzi degli alberghi eccetera eccetera, però se magari uno con l'assetto di poi o di prima ha preso al 20 di agosto, ha preso tre settimane a Venezia dal 20 al 10 di settembre, magari è lì bello, felice e contento, si gode il festival del cinema di Venezia, si va a Gironzola per Venezia, conosce un po' di attori, attrici eccetera eccetera, si fa i selfie e quant'altro. Beato lui. Dopo l'evento cinematografico andiamo all'evento gastronomico, saranno felici gli abitanti di questo, spero si possa dire paese perché l'altro giorno quando uno ha detto paese indicando come è successo il finimondo, ve ne ho parlato in un video, vediamo se si può dire paese per Cantù, perché a Cantù da oggi al 4 settembre va in cena Grecia in festa, quattro giornate di gusto e divertimento dedicate alla cucina del Pelloponneso nella centrale piazza Garibaldi, una kermesse imperdibile per tutti gli amanti della cucina mediterranea, dai sapori tutti da scoprire in un solo giorno, tra le tante bancarelle presenti. Insomma un'occasione unica per gustare nuovi piatti della cucina ellenica. All'interno di piazza Garibaldi eccetera abbiamo cucina greca transnazionale, servizio bar e ristorazione, bevande e vini selezionati, quindi bevande e vini grechi, musica dal vivo eventi, asport e takeaway, intrattenimento e area bimbi così se magari qualcuno ha i bambini eccetera non li vuole avere tra i testi mentre il Gironzola per le bancarelle per prendere vino e o quant'altro, ma c'è l'area bimbi da lasciare quindi probabilmente ci sono delle ragazze e ragazze che gli fanno passare il tempo in maniera simpatica. L'ingresso è gratuito quindi non c'è nessun problema e c'è anche l'area Reras con tavoli. Quindi per chi abita a Cantù e nella nella zona, siete pronti a gustare pita feta, pita allumi, suvlaki, grigliata mista, pita lucanico, yogur greco, dolmo d'acchia, insalata greca, pita giros, frittura, baklava, kataifi, polpettine di ceci, questi piaceranno molto ai vegani e ai vegetariani, bastoncini di feta, pita sutsukaki, salsa satsiki e tante tante altre, squisitezze greche. Bene ragazzoli se siete in Grecia fateci, cioè se siete a Cantù e zone limitrofe, fare un saltino in piazza Garibaldi a Cantù e gustarsi un po' di cibo greco può essere un'idea. E dal cibo greco passiamo a un posticino carino qua sul lago dove andare a mangiare di bidine. Vi ho parlato spesso in queste call news eccetera, di ristoranti, osterie e quant'altro, sul lago di Como, agriturismi, ristoranti, agri ristoranti che mischiano la cucina del territorio con la cucina di altri posti, pizzerie, locali vegani, ho parlato un po' di tante cose, adesso tutto tutto non lo so però, ho fatto tanti video in cui dal tol del ragazzo ho più di 6.000, ormai credo di essere arrivato a 6.000 video su youtube quindi. Ma adesso andiamo a parlare di un posticino. dopo alcuni posticini di cui vi ho parlato eccetera eccetera oggi vi parlo di un luogo tipico dell'Ario che è qua a pochi chilometri in un posto però che quando ci vado mi viene l'allergia perché io ci ho fatto dei tornei di calcio con i ragazzi quando non c'era ancora la pandemia e chissà perché mi veniva come un'allergia agli occhi eccetera probabilmente perché lì in quella zona ci devono essere io sono allergico alle graminacee eccetera al pollini probabilmente lì c'è qualche pioppo o roba simile perché tornavo sempre e la prima volta sono dovuto pure andare al pronto soccorso mi hanno fatto anche due iniezioni di non so cosa di antistaminico o qualcosa di simile passato subito però ero preoccupato perché proprio c'era ancora la mia mammeta. Comunque si tratta del crotto Isidoro a Stazzona. Ma che cos'è un crotto signori miei? Il crotto è una cavità naturale tipica delle regioni montuose delle Alpi in particolare delle zone di Como e Lecco a ridosso del lago della Val Chiavenna e del canton Ticino quindi ci sono anche in Svizzera. All'interno di queste cantine naturali scavate nella roccia soffia il Sorel una corrente di aria fresca che proviene dal sottosuolo e che mantiene nell'ambiente temperature e umidità costanti tutto l'anno. Nello specifico si tratta di anfranti naturali che si sono creati all'interno delle alture che circondano il lago probabilmente durante una delle grandi glaciazioni. Non si tratta di fenomeni carsici bensì di quello che rimane di canaloni scavati dal ghiaccio e dall'acqua. La loro caratteristica principale come detto è quella di essere delle grotte nelle quali riesce a mantenersi una temperatura costante sia d'estate che d'inverno molto fresca tra i 6 e gli 8 gradi. Alcune di questi si sono trasformati con il tempo in osterie e ristoranti dove gustare i prodotti tipici locali. Uno dei più suggestivi si trova appunto a Stazzona, piccolo comune dell'Alto Lario, tra Dongo e Gravedona, quindi capite che è dalle mie parti, io sono a Gravedona, prima ero a Domaso. Il Crotto e Disidoro è uno storico locale a gestione familiare e soprattutto in estate si trasforma in una meta obbligatoria per chi ha la ricerca dei tipici piatti della tradizione lariana, polenta, grigliate, trippa, formaggi, salumi. In un ambiente assolutamente unico con una spettacolare vista sul lago di Como qui si assapora il gusto di un vivere tutto italiano dove cibo, vino, convivialità e panorama offrono agli ospiti un momento indimenticabile. Quindi signori, se siete da queste parti, volete andare a mangiare adesso la polentina, la grigliatina, la trippetta, quella con i borlotti, va bene la trippa. Poi formaggi e salumi qua siamo al top, potete farci un salto, certo andare a mangiare la polenta e la grigliata a Ferragosto, io anche no. Però adesso libidine perché comincia ad arrivare il freschino, poi lì si sta freschi, quindi mangi anche volentieri eccetera eccetera. Se volete un saltino fatelo, il crote di risidoro fa libidine. Detto questo ragasoli mi sono dilungato un po' troppo anche perché ho parlato un po' delle le mie cose, ogni tanto mi piace buttare dentro qualcosa anche di mie esperienze, di miei ricordi, di mie cose. E ci vediamo alla prossima. Ciao!